Un'oscura tragedia ha scosso il panorama calcistico globale nelle ultime ore. Le notizie giungono da fonti autorevoli, tra cui fanpage.it, e raccontano di un incidente stradale senza precedenti che ha avuto un impatto devastante. In una drammatica catena di eventi, un orribile incidente automobilistico si è verificato, causando la perdita di vite preziose nel mondo del calcio. Tra le vittime si annoverano un giovane calciatore di appena 27 anni, un assistente allenatore e il medico della squadra coinvolta. La collisione coinvolse un'auto e due camion, in un disastroso intreccio di circostanze che non lasciò spazio a possibilità di sopravvivenza. La terribile tragedia ha avuto luogo in Vietnam, dove si trovava il calciatore brasiliano Paolo Madeira Oliveira, talentuoso attaccante di 27 anni. Questo giovane atleta aveva da poco fatto parte del Long and the Alley Club, una squadra di vertice nel calcio locale. La sua carriera, finora sviluppata principalmente in Portogallo, aveva toccato diverse piazze calcistiche, incluso il club di Estoril. La sciagura colse Paolo Madeira Oliveira mentre si dirigeva verso casa, dopo aver partecipato a una partita di campionato in trasferta. L'auto su cui viaggiava fu colpita alle spalle da un camion, innescando una violenta collisione che la spinse contro un altro mezzo in direzione opposta. L'auto rimase incastrata tra i due giganti metallici, un simbolo tangibile della devastazione che l'incidente portò. Le conseguenze furono tragiche e immediate per i tre passeggeri a bordo dell'auto, che persero la vita sul colpo. Il conducente, invece, fu trasportato d'urgenza in ospedale con ferite gravi, in una corsa contro il tempo per salvare la sua vita. La notizia di questo orribile incidente ha gettato nel lutto il mondo del calcio e oltre, unendo gli appassionati in un sentimento di profonda tristezza per la perdita di vite giovani e promettenti. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto. Grazie.